As-salamu alaykum, kuswadawada, bernamech kanamanta, wa hanu gahedinu kodabaka le duen. Siamo italiani, ma siamo anche quelli che vi hanno costruito le strade, le scuole, vi hanno insegnato l'alfabeto che usate, spiegato le leggi, il diritto, l'organizzazione dello Stato e la creazione di quello di diritto. In questa parte è passato dall'amontata dal'anismo, con David Hurst, una grande grazie di Inglese, ma è un amonto che ha detto che ho l'ha detto che ha detto che ha detto che ha detto che ha detto che è un amontamento dell'Islamo, un amic premio secondo giorno. La cosa che dice, è che i suoi risultati che il gruppo del gruppo di New York è scoperto alla parte della sua legge, da parte del gruppo di ammolata, ed è il momento che il gruppo di ammolata. E' da parte il gruppo che non ha scoperto. Il gruppo di un gruppo di New York è stata una volta di un gruppo di ammolata che non ha fatto un problema. le cittadini di San Antonio spazano la città dei paesi del virus da questa cittadini di San Antonio a Tent in Central Park a questo massimo di convenzione e ora sono rilassati a rilassare a fare questo stadio tennis il luogo del U.S. open la capacità di gestione è fuori se si è mai rilassato come dice il caso la città di Inghilistia è una sensazione che ha scoperto il senso che il rumore è un'ultimo ma non si non si tratta l'accia di inglese Inghilistia David Hearst e la città Non c'è una storia che si avvicinano il sistema, l'economia, ma anche il sistema. E' un problema che non si avvicinano il istituto, ma il virus è un problema che si avvicinano il coronavirus. Il virus è un problema che si avvicinano il mondo dell'economia, ma è un problema con il virus. il virus del coronavirus. è stata un'avisione degli uomini di ingresa. La nostra vita è in un'ambiente per esempio di cui si può essere un'ambiente a UR, ma è un'ambiente anche di un'ambiente a UR. Non è un'ambiente anche però, perché è un'ambiente che ci sia un'ambiente a UR. Ma che è un'ambiente che si può essere un'ambiente a UR, che si può essere un'ambiente a UR. Vio ci siamo bellissima dell'aggiarlo del miraggio è stato del cuore образом raccontati perchè la faccia delle sc missioni Non è verificata da via lo confir honestly Il二十utter sci-fi ho intervento a suppello da Roma molto calda se facesse un futuro silenzio e non è venuta a condividere Il nostro paese è stato un po' di più di più di più di più. quindi l'ambientale di ricerca l'ambientale ma non si tratta l'ambientale di quello che c'è. Come l'amico dice che il nostro modo è un spazio che corraggere la pelle di ricerca, come costa di farola del mondo. Se direi che sono stati una frazione che fa gli amici di ricerca l'ambientale come un'oggiata, l'Europa, l'Asia e l'Africa, ma mentre è il nostro modo di osservare le ricerca di ricerca? 2 spazio che corraggere la pelle di ricerca che esistono. C'è il nostro canale che face a una seconda partecipazione su건 il mondo. Come si siamo arrivati in una… …..fansia e storia… …faccio e pensieri… …faccio… …la un problema. Ci c'è un'altra parte, noi ci hanno detto prima di più. Ci sono un'è il momento che si sembrava di tutto. Vi sono rimane in una partecipazione, ci sono molto a lì. E' un'altra parte ci sono rilevi… …è quella di quello che è chiaro. Il primo dell'esituto è ora, è quello che si avessi. sono stati di un uomo di limitazione a chi è come queste Quai? qui è il cazzo che siamo in grado è sicuramente che io voglio se sia di un uomo di quai è nella cosa che è veramente e io sono tutto Nasi una canzone un uomo in cui mi è dovuto fare Ma nonò che resta in un caso Sì, non sono gli iniziati Non sono gli iniziati Ma non sono i iniziati Sì, avanti tutti i amici la sua immagine allora è un problema che è una cosa che ci ha avuto questa cosa non è un problema non è un problema questo è un problema che è un problema che ci sono una cosa che è una persona che ci sono un problema che è un problema ma è un problema è un'altra cosa. Inseliano! Ma che ho fatto un posto di una comprensione. C'è un po' di più di più di più. Ci sono un po' di più di più di più di più di più! Non c'è il modo di più di più di più di più di più! Ma quanto arriviamo a un cerchio di più dalle della famiglia? Come un po' di più? Non c'è quello che sono dicciade! Se non rimane con un po' di più di più! Sono sempre inizievo altre come tutti. Ma è un po' di più di più di più di più di più di Hinduismo. La mia storia è la migliore di Qorga di Qorga, vegane, che non sappiamo le fiche di Qorga. Non ne viva un'e riccio e quindi, soprattutto, una cosa che è molto importante. E l'exe del Vida da Qorga, che riguarda che arrebbero attimandolo. E' un'e del Vida da Qorga, che c'è la quarta, una storia. E' il Vida del Vida da Qorga, è una storia che il Vida del Vida da Qorga. ... ed ed è un'escalo che vuole essere presenti... ... ed è un'escalante che si avvicina l'acquillazione... ... non è riuscita il problema che ci sono stati... ... ma non si fa cos'è di tutto... ... l'eo di colore di Falcettino... ... ed è un'escalante di amare... ... ed è un'escalante di amare... ... ed è una situazione di amare... Ma l'abbiamo di dire che adesso si intenziali, che sono in questioni di più si è una domanda che ha avuto. Metti più di più. Una barba di più di più l'沒錯! Ossi! Sono una domanda di cosa che ha avuto a questo, Per l'evento è quindi il avuto un'eserciato e un'eserciato a Mascimento di ricerca. Sono nata che per questo passaggio e incontro di fare attu. Metti più di più alti, che quella di affianza è che la mia faccia sui. ma a minsanoo si è il suo periodo di fare un paese. E questo è un paese di una sua fede di una forma di essere affittata, se non si può essere il pò che ha fatto un paese il pò che sia il pò. Ma a minsanoo è un paese di essere affittato a qui si è il pò che si è il pò che è il pò. Ma come si è un paese di fare un paese di fare un paese di come, e comunque.. e quando hai seguito.. .. e quando hai una parte che c'è un po' che ho riuscito.. ..dolgo che hai visto che hai bisogno di un'altra anni che hai bisogno di un po' di ritmo.. .. e se sei.. .. e quando hai visto che hai un po' di ucolti.. .. ma non ti dimentico che hai detto.. ..qu'è un po' che vuole una cosa che ti parla dell'altro.. ..e questo è il tuo suo virus con la corona.. ..il primo giorno in un po' di un po' di un po' di un po' di un po' E' un'euro per 100 milioni. Ma non è uno milioni. Quindi, l'anno passata a una settimana per il virus. Quindi, il risultato all'ambiente. Quindi, il risultato che il virus ha avuto in Sihulya. L'arga di Sihulya, il risultato. Quindi, il risultato di essere arrivato alla settimana. La settimana è la settimana per il virus. se è diventata un caso, di ciclo da via. Se inizia tenere a pratica la pandemia, è quella di farce di справa, se fosse un'ultima, se fosse un caso che c'è il risultato, il virus è diventato le risultato. Ma quando si era orale, la città, il paziente, il suicidio, il maricano, il virus, si era orale, il virus è diventato, è un cittetto, ora è un po' di lavoro che era Sau. Il fatto che c'è Iran. La regione degli attivi di Iran è grande. Quindi se è un signore a vedere. Perché ci sono giù un specchio in cui è venuta in lui. Il граждпрiento, il sorgimento di legge dell'europello. L'europello che ha detto non è una primera parte. La lingua in london è il Comitore, è riporto in inglese. C'è la lingua in inglese da un articolo in cui è venuta a fare. E invece è presa in cui si è großes a questo menu. Ah, ma direi con i autori che aveva un po' di qualità la ultima fine... ...e un po' di domanda, il po' di dormire... ...e un po' di mangiare s-maele di amare e del lui. ...Eche non servizionalmente... ...e come si può essere vivere il loro possibile... ...o doveWindows. E questo è un po' di Enquotelle che vive le Brani Adam... Ma ora dovremo dire il nostro corso. Il corso del coronavirus è stato caldoso. Qu'è una cosa adorata? Qu'è un'altra? Qu'è una storia? Se avrà un'espeuta del cittadino inglese dice che c'è un po' muslim. È un po' a' che cosa dice. Se ad esempio, seiali di corso del coronavirus, C'è un'epaito che accionato. C'è un'epaito che rispetti al coronavirus. a'ha da'baqofkan moslimka marco uggirio di odharkan a'yao xamqalit ta'atir moslimina labad ta'qhtaro mosliminu esbitalka tka'cashqeeinayi wa xayna usuddaqdegin in e'janazakutu kadain si dhortanadaka mwqato Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info